Parliamo di emozioni, proprio perché tutti pensano di sapere cos'è un'emozione fino a quando non provano a definirla, proprio perché l'emozione in realtà è qualcosa di molto molto complesso ed è difficile non solo da definire, ma spesso abbiamo anche delle difficoltà a comprendere la funzione dell'emozione, cioè che cosa ci sta dicendo in un dato momento, in una determinata circostanza. Come proviamo dunque a definirla? Parliamo di un processo perché è caratterizzato da attivazioni fisiologiche, ma anche da comportamenti, da pensieri, da azioni. Per aiutarci proviamo a utilizzare questo schemino. Allora, l'emozione può essere definita come una reazione che l'individuo ha di fronte ad uno stimolo, che nella maggior parte delle volte proviene dall'ambiente esterno, quindi dal contesto. Da questo stimolo segue, questo stimolo ci provoca, diciamo, una vera e propria valutazione cognitiva che avviene in tempi molto molto rapidi, quindi spesso l'individuo non è consapevole. La valutazione ci permette di comprendere se lo stimolo può essere potenzialmente dannoso oppure no. La valutazione innesca quasi in contemporanea un insieme di meccanismi, tra cui l'attivazione fisiologica, l'attuazione o l'inibizione di un comportamento e l'espressione dell'emozione all'esterno. Noi esprimiamo l'emozione attraverso sì il linguaggio e la comunicazione, ma soprattutto attraverso il non verbale, quindi la postura, la gestualità, il tono di voce, l'espressione facciale e tutto questo spesso viene proprio regolato e gestito, influenzato dal contesto in cui noi ci troviamo. Distinguiamo due categorie delle emozioni. Le emozioni primarie o di base, che sono presenti anche nei mammiferi, per questo si chiamano primarie perché si sono evolute già da secoli nel corso del tempo e queste sono la felicità, la tristezza, la rabbia, il disgusto, la sorpresa e la paura. E poi abbiamo invece le emozioni secondarie o complesse. Queste vengono definite tali, quindi secondarie, proprio perché si sono evolute recentemente nel corso del tempo e appartengono solo ed esclusivamente all'essere umano. Queste sono per esempio il senso di colpa, la vergogna e l'invidia. Ma a che cosa ci servono le emozioni? Cioè qual è il loro ruolo fondamentale? Tutte le emozioni, indipendentemente da come noi le classifichiamo, solitamente parliamo di emozioni positive, negative, neutre, in realtà tutte ci comunicano qualcosa, servono a qualcosa. Diciamo che tutte le emozioni hanno tre funzioni essenziali, quindi sono particolarmente importanti. La prima funzione è quella adattiva e come dice il termine stesso permette all'individuo proprio di adattarsi al contesto. Come? Permette dunque di identificare un pericolo e di difendersi di fronte al pericolo, quindi un adattamento che porta a sopravvivere in un contesto ed è proprio questa funzione, quella adattiva, che ha permesso anche l'evoluzione della specie nel corso del tempo. La seconda funzione è quella sociale e comunicativa, quindi noi attraverso l'emozione comunichiamo con i nostri conspecifici, quindi diciamo qualcosa. Noi possiamo attraverso il linguaggio non verbale comprendere l'emozione dell'altro e nello stesso tempo capire quali sono i suoi bisogni, le sue necessità e anche i disagi, le intenzioni del momento. Infine la funzione strategica che è più intenzionale perché avviene quando l'emozione serve per ottenere un altro obiettivo, un altro scopo. Questo è visibile per esempio nei bambini che enfatizzano un'emozione, pensiamo quando piangono in maniera incontrollata, per ottenere per esempio un altro obiettivo, un altro scopo, un giocattolo, un cibo, un alimento desiderato. Adesso vediamo quali sono alcune funzioni delle emozioni di base, proprio per capire che anche le emozioni che noi definiamo negative come la paura a volte servono, anzi nella maggior parte delle volte sono proprio essenziali. La paura per esempio che cosa ci serve? Ci serve per proteggerci di fronte ai pericoli, una protezione che avviene attraverso il comportamento di fuga. La rabbia, a cosa serve la rabbia? Anche la rabbia ci permette di difenderci di fronte ai pericoli presenti nell'ambiente circostante, ma non tanto attraverso la fuga quanto attraverso proprio una lotta, una lotta di fronte agli ostacoli. Poi abbiamo la sorpresa che invece ci permette di esplorare e conoscere l'ambiente. Lo vediamo anche attraverso l'espressione facciale che solitamente accompagna la sorpresa, che è caratterizzata da sopracciglia alzate, da occhi spalancati, proprio volto a segnalare la necessità di vedere, di conoscere l'ambiente circostante. E solitamente la sorpresa poi è seguita da altri tipi di emozione. Siamo sorpresi ma poi abbiamo per esempio paura, se vediamo un ragno, un serpente, un insetto disgustoso per esempio. Oppure possiamo essere sorpresi e dopo proviamo gioia, se ci viene presentato un regalo inaspettato e così via. Poi abbiamo il disgusto che invece ci permette di eliminare, allontanare tutto ciò che noi consideriamo come repellente, quindi come dannoso. E poi la tristezza. La tristezza spesso viene considerata come l'emozione negativa per eccellenza, ma soprattutto nel momento in cui ci viene espressa adeguatamente serve per richiedere conforto, aiuto, supporto nei momenti di difficoltà e disagio ed è la cosiddetta emozione che cura le ferite date dalla perdita, dalla separazione da persone molto importanti e significative. E infine abbiamo invece la gioia che ha una funzione affiliativa, proprio perché promuove dei comportamenti volti alla condivisione. Noi sappiamo che di fronte ad un pericolo l'individuo ma anche l'animale ha più probabilità di sopravvivere all'interno di un gruppo. Dunque che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo imparare a riconoscere l'importanza di tutte le emozioni, soprattutto di quelle negative. Dunque che cosa intendiamo per emozioni negative? Se abbiamo detto che tutte le emozioni ci servono per qualcosa e sono necessarie soprattutto per sopravvivere, per adattarci e per difenderci, le emozioni negative sono definite tali, possiamo definirle tali, quando sono troppo rigide, troppo intense e troppo ricorsive. Che cosa vuol dire? Quando si presentano in maniera ripetuta, costante nel tempo, in tutte le circostanze, anche quando non dovrebbero presentarsi e con una intensità tale da non essere poi ben gestite e regolate. Facciamo un esempio. Una persona che da bambino subisce vive un'esperienza traumatica, quindi viene morsicato per esempio da un cane. In età adulta, alla visione del cane potrebbe riattivare l'emozione che aveva provato al tempo, nel momento in cui aveva subito questo attacco. In questo caso, un cane magari docile viene percepito dall'individuo come dannoso, come pericoloso. E dunque si attiverà anche di fronte ad uno stimolo, in quel momento neutrale, una reazione di paura, comportando anche un'attivazione magari fisiologica in comportamentale particolarmente importante. Ecco, in questo caso l'emozione è negativa. Perché? Perché non permette all'individuo di adattarsi in maniera funzionale al contesto, all'ambiente in cui viene a trovarsi. Quindi c'è un dispendio di energia molto intenso e inutile. Adesso vi propongo questa teoria dell'ampliamento e della costruzione che distingue le emozioni positive e negative non dando un rudizio di valore. Cosa vuol dire? Quindi riconoscendo il valore di tutte le emozioni, anche di quelle che consideriamo negative. Secondo questa teoria le emozioni positive si distinguono perché sono accompagnate da un pensiero aperto e flessibile, quindi da un ampliamento del focus attentivo e della creatività. Cosa vuol dire? Che l'individuo quando sperimenta prova emozioni positive è in grado di essere particolarmente creativo e di trovare anche delle alternative e delle soluzioni nei momenti problematici e nelle difficoltà. Al contrario, le emozioni negative invece sono accompagnate da un pensiero molto rigido, quindi da un restringimento del focus attentivo e sono talmente rigide che bloccano l'individuo di fronte a qualsiasi esperienza che potrebbe in realtà anche essere piacevole. Questa teoria per essere verificata è stata accompagnata da un esperimento vero e proprio in cui venivano fatti vedere ai partecipanti dei brevi filmati. Alcuni di questi filmati suscitavano delle emozioni positive mentre altri emozioni negative o neutre. Poi è stato chiesto ai partecipanti semplicemente di elencare delle attività che a loro piacevano, quindi un compito particolarmente semplice e banale, ma anche in questo caso si è visto che solo il gruppo di persone che avevano visionato i filmati volti a suscitare, a promuovere delle emozioni positive erano in grado di elencare molte più attività piacevoli rispetto agli altri. Questo sostegno del fatto che le emozioni positive ampliano proprio la creatività e il focus attentivo. Quindi le emozioni positive comportano nuove esperienze e dunque anche nuovi comportamenti, nuovi pensieri e nuove relazioni. Il tutto permette di costruire delle risorse che poi sono durature nel tempo, per esempio di acquisire delle nuove conoscenze, delle nuove qualità, la capacità di richiedere adeguatamente aiuto nei casi di difficoltà. Però è anche vero che più l'individuo ha risorse e più è in grado di vivere nuovamente delle emozioni positive. Perché? Perché riesce a cogliere nell'ambiente tutte quelle opportunità esperienziali piacevoli, quindi che gli consentono di rivivere e ampliare le emozioni positive. Quindi dobbiamo ricordarci questo circolo ricorsivo secondo cui noi abbiamo, sperimentiamo delle emozioni positive, siamo in grado di creare delle risorse personali, psicosociali e a partire da queste risorse sperimentiamo nuovamente esperienze positive che ci ampliano le nostre emozioni positive. In sintesi dobbiamo forse modificare la nostra modalità di categorizzazione delle emozioni, quindi modificare la modalità con cui noi chiamiamo un'emozione, perché tutte le emozioni possono trasformarsi in negative nel momento in cui, abbiamo visto, diventano troppo rigide, troppo intense e troppo ricorsive. Anche la gioia paradossalmente può diventare un'emozione negativa. Pensiamo per esempio a un individuo che sperimenta solo ed esclusivamente gioia, quindi emozioni positive. In questo caso persisterebbe comunque una condizione, una situazione molto stabile e statica che non permette all'individuo di cogliere il pericolo nell'ambiente e dunque di difendersi, quindi di attuare dei comportamenti per la propria difesa e sopravvivenza personale. Quindi in sintesi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cercare di rispettare tutte le emozioni, anche quelle negative, perché nel momento in cui emergono abbiamo visto che ci stanno segnalando, ci stanno dicendo qualcosa, ci stanno segnalando il bisogno di riposo, di recupero di energie, il bisogno di difenderci di fronte ad un ostacolo, a un pericolo o il bisogno di richiedere aiuto, supporto e consolazione. Quindi a tutti noi è capitato magari di voler rifugire, eliminare le emozioni negative, ma questa fuga dall'emozione negativa in realtà non ci permette di comprendere quello che ci sta segnalando e dunque di agire correttamente. Se noi rifugiamo l'emozione negativa, non ne abbiamo consapevolezza e possiamo correre il rischio di trasformarla in un'emozione negativa a tutti gli effetti, quindi troppo rigida, troppo intensa e troppo ricorsiva. Dunque dobbiamo rispettare tutte le emozioni, riconoscerne il significato e lavorare per ampliare le emozioni e le esperienze positive, ricordandoci di questo circolo ricorsivo, secondo cui più sperimentiamo emozioni positive, più creiamo risorse personali, più viviamo nuovamente esperienze positive.